Continuano ad essere a rischio più di 200 laboratori alla Michelin. In seguito all'incontro di ieri pare infatti che sia stata confermata la chiusura dello stabilimento di Fossano e solo una parte dei dipendenti potrebbe essere riassorbita nella sede di Cuneo. L'azienda in un comunicato dice che c'è stato il confronto tra aziende e sindacati sui capitoli del piano strategico 2016-2020. È stata individuata la possibilità di mantenere in Italia una parte della produzione di Fossano che sarà trasferita presso lo stabilimento di Cuneo, dice ancora l'azienda, che manterrà una posizione di primo piano nella strategia industriale di Michelin. Si tratta del reparto di fabbricazione dei cerchetti metallici, un componente strategico nella filiera di fabbricazione degli pneumatici. Tra le righe poi qualche spiraglio. Aziende e sindacate hanno poi approfondito in una logica di sostenibilità e competitività industriale il tema della possibilità di creazione di posti di lavoro derivanti dall'aumento di volumi contenuto nel piano strategico. Sono state anche individuate alcune possibilità di impiego per il personale presso altre realtà del gruppo all'esterno dell'Italia. Di diverso tono la comunicazione della Fiamcigelle che conferma la disponibilità a mantenere la produzione dei cerchietti a Cuneo. Non c'è però la produzione del filo, dicono dal sindacato, il che vorrebbe dire la chiusura dello stabilimento di Fossano e lo spostamento della produzione a Cuneo. L'azienda ha poi spiegato che a Cuneo si aprirebbe il posto per altre 45 persone in cambio di un'ulteriore flessibilità e ha dato la disponibilità a riassorbire altri 30 lavoratori negli stabilimenti francesi e rumeni dove si produce il filo. La Fiamcigelle ha risposto chiedendo che i 180 milioni di investimenti annunciati vengano utilizzati per trovare una soluzione occupazionale per tutti i 578 lavoratori in esubero, di cui 400 nello stabilimento di Fossano e per i 300 interinali. L'azienda ha quindi concluso l'incontro chiedendo di avere del tempo per discuterne con la casa madre francese. La trattativa dunque va avanti ma le difficoltà continuano a farsi sentire. Barbara Tibaldi, segretaria provinciale della Fiamcigelle di Cuneo, ha detto che in occasione del prossimo incontro dichiareremo 8 ore di sciopero perché i lavoratori possano venire davanti all'Unione Industriale di Torino durante la trattativa in modo che sia chiaro definitivamente che la soluzione o c'è per tutti, precari inclusi o non ci interessa. L'azienda ha compiuto passi avanti che però non sono ancora assolutamente sufficienti. Occorre cambiare logica e imprimere una svolta. Torneremo tra i lavoratori perché sia chiaro che non ci faremo dividere.